Segui il programma con Geico Gold Grazie a tutti Ben ritrovati e allora penultimo appuntamento di questa stagione di viaggio nel terzo millennio insieme al direttore di Limes sullo sfondo sempre i due principali scenari di crisi la guerra in Ucraina ed il risico dell'Indo Pacifico se in precedenza avevamo focalizzato le nostre attenzioni sugli attori internazionali più esposti questa sera ci soffermeremo invece su quelli che possiamo definire giganti nell'ombra paesi dalle grandi potenzialità come Brasile, India, Sudafrica in generale la galassia dei non allineati o non completamente al campo occidentale sono certo che non mancheranno spunti di interesse subito un saluto allora a Lucio Caracciolo buonasera direttore allora quando si parla della cosiddetta comunità internazionale siamo soliti fare riferimento in realtà all'occidente quantomeno in senso lato ma il nostro campo d'appartenenza rappresenta ormai solo una piccola porzione del mondo specie in termini demografici vi proponiamo allora uno schema della popolazione per continente dove sono indicate proiezioni relative ai prossimi quarti di secolo fino al 2100 vediamo come Europa e Nord America insieme siano destinate a rappresentare una quota sempre più ridotta di popolazione ciò direttore Caracciolo immagino abbia ripercussioni sugli equilibri geopolitici geopolitici, economici, culturali insomma su tutto noi oggi, noi occidentali mettendo insieme europei, nordamericani e poi magari aggiungendoci anche giapponesi, sudcoreani possiamo arrivare a poco più di un miliardo sul totale di più di 8 miliardi quindi in termini pratici la cosiddetta comunità internazionale come la normalmente intendiamo noi vale un ottavo dell'umanità questo dato parla da solo e ci dice forse che è il momento di fare un esercizio di modestia non per cessare il nostro ruolo anzi, ma per commisurarlo alla realtà di un mondo che occidentale non è Abbiamo anche un grafico relativo alle prospettive di crescita mandiamolo in onda e poi se vuole aggiungere qualcos'altro su questo tema direttore vediamo con i diversi colori appunto le linee di crescita e di contrazione della popolazione dei vari continenti si vede molto bene come il nostro colore arancio morbido diciamo sia poca cosa in confronto all'Asia e soprattutto all'Africa che oggi vale più o meno il doppio dell'Europa in termini di popolazione ma che presto raddoppierà questo significa che noi siamo in quanto Italia quindi in quanto paese che ha una frontiera marittima con l'Africa ed è molto prossimo all'Asia un compito direi abbastanza arduo cioè quello di fungere da collegamento o barriera secondo dei punti di vista tra occidente e cosiddetto resto del mondo anche se in realtà il resto del mondo in termini numerici siamo noi e sappiamo come i due paesi attualmente più consistenti a livello demografico facciano parte del club dei BRICS della Cina abbiamo già parlato iniziamo dunque il nostro focus sull'India all'insegna direi del pragmatismo il posizionamento internazionale di Nuova Delhi dalla cartina relativa al teatro dell'Indo-Pacifico ecco vediamo come emerga l'attitudine di questo colosso giocare su più tavoli indicate infatti l'appartenenza al quad sono i paesi in blu come vedete dalla cartina l'intento del quad sappiamo seppur non dichiarato il contenimento della Cina al contempo però l'India ha finora resistito alle pressioni statunitensi riguardanti il dossier ucraino non solo rifiutando di schierarsi ma anche monetizzando diciamo così la situazione creatasi con il regime sanzionatorio disposto contro Mosca dunque come dicevo all'insegna del pragmatismo questa postura indiana in termini pratici vuol dire che prima della crisi l'India importava circa 50.000 barili di petrolio al giorno adesso siamo intorno ai 2 milioni prima il prezzo era più o meno quello classico di mercato adesso la Russia vende all'India circa a un prezzo ridotto di un terzo e l'India rivende al resto del mondo a un prezzo triplicato quindi certamente di conto sanno fare i nostri amici indiani ma più in generale un po' tutti i paesi del mondo oggi giocano su più tavoli in attesa di capire fino a che punto la crisi americana soprattutto il suo interesse per il resto del mondo sarà sempre più evidente oppure no e di capire anche come vanno a finire le partite fra Russia e Ucraina e soprattutto quella dell'Indo-Pacifico e vi rimando ovviamente alle nostre puntate sulla crisi americana dovremmo ora avere un tappeto relativo ai colloqui a margine del recente G7 giapponese tra il Premier Modi e Zelensky direttore mentre scorrono le immagini volevo sollecitarla su un aspetto particolare perché a fronte del sempre più diretto coinvolgimento degli Stati Uniti e dei paesi nato nella guerra in Ucraina colpisce l'apparente capacità di attrazione del blocco dei BRICS di cui si diceva manifestazioni di interesse pare il condizionale d'obbligo sarebbero venute da paesi non irrilevanti di certo come Argentina Egitto Algeria Arabia Saudita Messico e così via vista così pare una sorta di sfida aperta all'Occidente peraltro in uno dei momenti storici in assoluto più critici e pericolosi direttore Sì in genere i blocchi di cemento o di altro materiale si formano intorno a un perno d'acciaio qui non vedo perni vedo un paese più forte degli altri che è la Cina un paese che formalmente ne è amico ed è formalmente ancora una volta una grande potenza se è pure in evidente declino come la Russia e poi medie o aspiranti grandi potenze come soprattutto l'India ma anche il Brasile il Sudafrica come potenza africana i paesi che vorrebbero aderire quindi non parlerei di blocco in senso stretto ma parlerei di gruppo dei furbi se vogliamo usare proprio un termine cioè di coloro che non vogliono schierarsi troppo da una parte o dall'altra in attesa di vedere come va la partita dei grandi e naturalmente approfittare di questa situazione critica dinamica per allargare il proprio spazio di influenza e le proprie reti commerciali e allora faceva riferimento anche al Brasile stratta ovviamente di un paese cardine del paese cardine direi dell'America latina in una recente intervista alla tv portoghese Lula era tornato sulla crisi ucraina ammorbidendo in un qualche modo le sue precedenti dichiarazioni sul tema delle responsabilità del conflitto ma dalle parole del presidente brasiliano emerge comunque in modo chiaro la riluttanza a schierarsi a fianco dell'Occidente sentiamolo tutto il mondo si involve direttamente nella guerra la perguna che faccio è la seguente chi è che va a conversare sono in pace e allora quella posizione pragmatica in un qualche modo attendista di cui si parlava poc'anzi direttore vediamo anche insieme la prossima cartina quella dal titolo il Brasile punta al centro tutte cartine ovviamente disegnate da Laura Canali di Limes allora direttore un commento alle parole di Lula comunque una posizione già nota poi le chiedo anche cosa sta accadendo appunto in America Latina quali sono le attuali dinamiche abbiamo visto come i governi in un certo modo socialisti seppur con diverse gradazioni abbiano alzato la testa ecco negli ultimi anni il Brasile è una grande potenza sudamericana ma non è tale da poter aggregare il Sud America o ancor meno l'America Latina nel suo complesso ancora una volta bisogna distinguere il Brasile parla per il Brasile certamente non per l'Argentina non per il Messico e per altri paesi quello che Lula sta facendo è posizionare il Brasile in una posizione che è quella di tutti i paesi che in questo momento cercano di avvicinare la pace piuttosto che di impegnarsi ulteriormente nella guerra paesi del ex terzo mondo che oggi chiamiamo impropriamente sud globale e che sono direttamente colpiti specialmente dalle conseguenze economiche della guerra in particolare il fronte alimentare questi accordi del grano che vengono rinnovati a singhiozzo e che potrebbero finire da un momento all'altro e che poi alla fine delle fini producono che la grandissima parte del grano che una volta passava dall'Ucraina verso quei paesi oggi va in Europa e quindi noi non abbiamo problemi di grano ma chi ha veramente problemi di grano nel senso che rischia di morire di fame in particolare in Africa si trova scoperto e a proposito del continente africano focalizziamoci ora su un altro componente dei BRICS parlo del Sudafrica che sta cercando di ritagliarsi un ruolo di mediazione nel conflitto in corso in Europa anche alla luce appunto della grande partita dell'approvvigionamento di cereali che preoccupa decine di milioni di persone nel continente dovremo avere un tappeto di immagini relativo alla recente missione del presidente sudafricano Ramaphosa insieme ai leader di altri sei paesi del continente dopo la tappa Kiev qui siamo a San Pietroburgo dove la delegazione avrebbe presentato a Putin un piano su più punti l'iniziativa diciamo che pare abbia poche chance ma al netto di ciò colpisce in un qualche modo l'assertività sui tavoli internazionali di questi paesi africani sembra un elemento inedito oppure no direttore direi abbastanza sì gli effetti pratici non saranno enormi dal punto di vista russo è un buon effetto di propaganda senza dubbio far vedere che c'è una ampia anche se non proprio completissima mancano per esempio gli egiziani delegazione africana che va da Putin Putin come sappiamo è colpito da un mandato di arresto della corte penale internazionale il prossimo vertice dei BRICS si svolge a Pretoria in Sudafrica il Sudafrica è un paese che ha aderito alla corte e quindi in teoria dovrebbe arrestare il capo della Russia se venisse a Pretoria sarà interessante vedere che cosa accadrà se Putin rinuncerà al viaggio o se invece andrà e quindi il Sudafrica sfiderà insieme agli altri paesi l'approccio della corte penale internazionale e vedremo dunque come andranno le cose faccio riferimento al direttore anche alla narrazione appunto del Cremlino alla propaganda Mosca sta cercando di proporsi in un qualche modo come campione di anticolonialismo diciamo così in quella che definisce la guerra contro l'Occidente collettivo in quello che seppure non le piace insomma il termine ha definito sud globale una simile narrazione effettivamente potrebbe fare breccia anche ai tempi della guerra fredda l'Unione Sovietica cercava nel terzo mondo un terreno di espansione alleati in funzione antiamericana oggi la Russia sotto questo profilo cerca di ripercorrere a suo moto le trame ordite ai tempi sovietici ed effettivamente questa idea sembra essere cavalcata in questi ultimi anni da Mosca e mi riferisco appunto alla penetrazione nel continente africano abbiamo anche un breve estratto di un reportage interessante della tv olandese in Mali ecco nell'estratto che vi proponiamo sentiamo l'intervista ad un giornalista locale ad un cittadino che ha trovato una nuova forma di business nella fabbricazione di bandiere russe prima era un sarto vediamo questo servizio quando vi chiedete a questi giorni per loro è perché la forza barcana durante neve anni di intervenzione a effettuato a ramener la sicurità al nord e al centro quindi per loro bisogna esplorare altre piste e questi giorni pensano che i russi sono la soluzione per noi per noi per fare male per loro e per noi diciamo che vive Poutine se si decide vive Poutine non 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 ripetiamo con la Trump e allora non tanto la vicinanza alla Russia quanto l'ostilità per le ex potenze coloniali direttore sì la Francia non ha lasciato una grande memoria di sé beh direi in Africa in generale ma in particolare in Mali l'operazione Barkan antiterrorismo è stata un fallimento Macron ha dovuto ritirare le sue truppe e sono arrivati i famosi mercenari di Wagner i quali a quanto pare maneggiare le armi sono capaci e quindi questo ha favorito un certo clima filo russo ma più che filo russo direi antifrancese certo è un fatto che oggi la Russia è molto presente in Africa non solamente nel Mali per esempio anche nella vicina Repubblica Centroafricana e come vedete come vedete tutti insomma la presenza di Wagner e anche di soldati regolari russi e di altre milizie filo russe abbastanza diffusa ce li abbiamo anche vicino a casa cioè in Cirenaica la parte orientale della Libia insomma è qualcosa di rilevante è interessante anche il raffronto con l'esito del voto in sede ONU relativo alla condanna della invasione russa all'Ucraina rivediamo nuovamente la cartina dunque questa influenza della Russia pare avere degli effetti anche nell'ambito degli organismi internazionali beh e d'altronde quello che hanno fatto anche i cinesi ormai da diversi decenni insomma in Africa ci sono paesi che equivalgono in termini numerici a tutti gli altri paesi del mondo quindi un voto del Sudan vale quanto il voto degli Stati Uniti d'America anche se ovviamente non è la stessa cosa e a parte questo ci sono interessi minerari economici e più in generale l'idea di dare fastidio a noi occidentali dovunque possibile e se la leva militare comunque degli armamenti è uno degli asset principali della penetrazione russa nel continente africano direi che invece è prettamente economica la testa d'ariete cinese appunto in Africa anche qui abbiamo una cartina per ragionare meglio la cartina dell'Africa gialla questo questo è il titolo ci sono anche delle cifre ce n'è una piuttosto rilevante quasi 106 miliardi di dollari in quanto a importazioni di beni per la Cina nel 2021 un balzo in avanti rispetto all'anno precedente davvero notevole e qui vediamo anche dei paesi quelli tratteggiati che sono a rischio appunto per la trappola del debito ma direi di sì e poi in realtà la Cina è quasi dappertutto non è solamente in i paesi che abbiamo disegnato questi sono i paesi di maggiore investimento ma la Cina in tutta l'Africa lo è da molto tempo organizza la Cina dei vertici regolari con i paesi africani per vari motivi uno di cui si parla poco è quello relativo al costo della forza lavoro in Africa nel senso che molte industrie cinesi si stanno servendo e quindi si stanno trasferendo in Africa di forza lavoro africana per compensare l'aumento del costo quindi dei salari in Cina chiudiamo con un'ultima cartina abbiamo poco meno di un minuto magari sforeremo qualche secondo vediamo la cartina appunto da questo titolo singolare Caoslandia versus Ordolandia l'avevamo già vista anche in altre occasioni però questa è la puntata giusta per analizzarla per analizzarla meglio le chiedo se alla luce di tutto ciò che abbiamo detto anche in questa puntata non vi sia il rischio che anche noi anche l'Italia o comunque l'Europa occidentale finisca in questo ambito di Caoslandia questo nome così inquietante direttore Sì Caoslandia oltre a concentrare la maggior parte dei conflitti ad essere un'area anche dal punto di vista ambientale estremamente critica si distingue da Ordolandia per la carenza di istituzioni sotto questo profilo resistiamo ancora ma certamente un certo grado di caos e di incertezza anche sulla stessa legittimità delle nostre istituzioni dovrebbe farci allarmare certo noi siamo alla frontiera tra Ordolandia e Caoslandia segnata dallo stretto di Sicilia e questo ci rende più esposti la vicenda migratoria è solo uno dei mille aspetti così come anche il rischio di penetrazione terroristica Allora dunque questi pericoli queste le prospettive ringrazio il direttore di Limes per essere stato con noi grazie a voi e vi rinnovo l'appuntamento con Viaggio nel terzo millennio lunedì prossimo buona serata in collaborazione con Geico Gold Grazie a tutti ieri